Allora, questo è un Samsung Galaxy Tab GTP5002, problemi di ricarica USB, il cliente sostiene che già è stato sostituito, ma che ha ripresentato lo stesso problema, quindi abbiamo ordinato la flat completa per sostituirla totalmente. Voi vi chiederete perché abbiamo ordinato questa flat completa, perché fondamentalmente solo lo spinotto ci costava qualche 2-3 euro in meno della flat, quindi abbiamo preferito prenderla completa in modo che facciamo anche prima a sostituirla. Procediamo adesso con l'apertura del tablet con il nostro strumento. Partiamo proprio dalla parte dell'USB, piano piano, basta dare qualche colpetto al... che sono i ganci di plastica, quindi bisogna andare piano perché altrimenti poi si spaccano. Ok, bisogna solo sforzare e lasciare che si, poi si tolgano da soli. Qualcuno inevitabilmente si spaccherà pure però, non c'è uno. A meno che io sappia, non c'è un altro metodo più sicuro. Beh, forse riscaldandolo ma non so cosa potrebbe servire. Quindi, dicevamo, stiamo aprendo il tablet. Ok, abbiamo rimosso la parte posteriore. Questo è il... Ma non sembra che sia stato sostituito. Ma... Chissà... Allora, rimuoviamo il connettore della batteria perché tanto è semplice, quindi così andiamo tranquilli. Rimuoviamo questo. Ok. Ok, come vedete, questo flat con il connettore ha a bordo anche il microfono e questo connettore che stanno qui sotto. Così. Quindi bisogna alzare un poco questa parte qua. Vediamo un attimo. Il nostro tool è questo. Ok, vediamo qui sotto. Ok, questo è staccato. C'è il dribbi adesivo che lo mantiene. Ok. l'abbiamo rimosso, questo è il vecchio. Da questo connettore dobbiamo prendere questa parte qua. Ok, questo lo rimettiamo per bene qui. Rimettiamo il nostro tool per alzare un pò, inseriamo bene il microfono nella sede. Adesso dobbiamo collegare il connettore. Ok, sembra che sia andato, no, non è andato niente. Ok, adesso è andato. Inseriamo nuovamente la protezione. Come vedi è un'operazione molto semplice. A questo punto dovrebbe essere. Tutto funzionante. Tutto funzionante. Tutto funzionante. a questo momento possiamo anche richiuderlo ok per questo video è tutto se vi è piaciuto condividete iscrivetevi al canale vi saluto al prossimo video ciao a tutti